Noi teniamo una notizia da darvi. Che è successo? Mino avrà un cuginetto. Beh, magari una cuginetta. Sì. Oh, guardi i ragazzi. Che bello. Fatevi abbracciare. Quanto ho pregato per voi. Giuseppe. Hai un pochettino di un figlio tuo? Sai quanto devi pescare per mantenere la tua famiglia? Ma? La mia famiglia è la nostra. State tranquilla. Penso io a tutti. Ecco il nostro angelo custode.